Prima parte del settimo capitolo della storia Il risveglio dell'oscurità di Tekken 8. C'è una cosa che puoi portare a termine solo tu, Jin. Ce la puoi fare. Non sei più da solo. Di tanto in tanto puoi passare a noi il testimone. Avete visto ci siamo tutti ad aiutarlo? Eccellente. Andiamo, Jin. Andiamo all'aeroporto. Invece i nostri protagonisti, i nostri lottatori, rimangono qui a combattere. Ci sono tutti. Vediamo se ce la fanno. Affermare True Devil Kazuya. Riordatevi che aveva distrutto Azazel. Sarai all'altezza delle aspettative. Vai Claudio. Forza, combattete. Andate. Vediamo se ce la fa Vorang. E anche Alisa Bosconovic. No, non ci riescono. Vediamo se ce la fanno Lee e Victor. Vai Lars. Forza, tutti insieme. No, non ci riescono. Non ce la fanno a fermarlo. Ora tocca a te, Reina. Eccoci, ora sei intrappolata, Reina. Sei in trappola. Ora vi saluto. Iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace. Grazie.